celebriamo la settimana di ferragosto con un film per me perfetto per l'estate come la vedo io stiamo parlando di sapore di sale no stiamo parlando di qualche commedia no stiamo parlando di un giorno di ordinaria follia falling down del 93 pensate quanti anni ha compiuto 30 anni sembrava ieri invece ha compiuto 30 anni questo film io sono Alessandro Girola sono scrittore podcaster youtuber sedicente divulgatore del fantastico e non solo e vi auguro prima di tutto di trascorrere un'ottima settimana di ferragosto ovunque voi siate tra l'altro tra la bellezza di queste nuove mila volanti tecnologie è che potete ascoltare le mie chiacchiere ovunque vi troviate al mare montagna in crociera un po dove vi pare a casa molti di voi sono a casa io lo sono ancora e se tutto va bene però settimana avventura mi aspetterà qualche giorno di relax relativo relax perché c'è anche di mezzo qualcosa di lavoro ma ci torneremo ve ne parlerò e ma sicuramente saranno se ripeto se tutte le stelle si allineano nel momento giusto se non ci sono contrattempi trascorrerò quattro giorni in allegria e santa pace insomma relativa anche divertimento in quel di san marino il comico di san marino tra l'altro insieme alla mia socia e vi daremo documentazione e registrazioni video dell'evento però non facciamo troppi passi avanti un giorno di ordinaria follia usciva nelle sale esattamente 30 anni fa presentato al festival di can se non sbaglio il regista è joel schumacher non certo uno qualunque un ottimo regista mio parere tuttavia questo film non venne apprezzato subito qualcuno lo ritene superficiale impreciso nell'affrontare tematiche serie complesse in un momento molto complicato della società statunitense in realtà ora che è passato del tempo tutti ne riconoscono il valore tutti riconoscono invece la sua precisa posizione in quel periodo storico del mondo e particolare degli stati uniti e tutti ancora fanno risaltare il fatto che michael daglass uno dei due protagonisti sicuramente il protagonista principale insieme a robert duval ha dato qui la sua migliore performance in assoluto un giorno di ordinaria follia racconta la storia di bill foster michael daglass appunto un quarantenne che sta cadendo giù come dice il titolo originale inglese falling down si sente un fallito vede la sua vita appunto precipitare la moglie lo ha lasciato e in più ha ottenuto un ordine restrittivo che gli impedisce di vedere la figlia ad il adele che compie gli anni proprio in quel giorno nel giorno in cui inizia il film non solo bill è anche stato licenziato dall'azienda per cui lavora un'azienda consociata al ministro della difesa però non ha raccontato nulla alla madre da cui è tornato a vivere dopo la separazione in questo giorno in cui finge di andare al lavoro preda dei suoi demoni e della sua del suo esaurimento nervoso si trova come migliaia di altri los angelini imbottigliato nel traffico la sua auto è trasformata in un forno a causa dell'estate rovente a un certo punto bill sbrocca arriva nel punto esatto in cui la tua mente non ce la fa più tenere tutto dentro quindi ha bisogno di una valvola di sfogo abbandona l'auto in mezzo alla coda chilometrica e se ne va a piedi lungo la strada questa sarà la prima azione il primo gesto di una giornata in cui bill diventerà il protagonista assoluto della cronaca seminando il terrore in tutta los angeles mentre cerca di vendicarsi di titoli presunti o reali ma soprattutto quello che gli interessa è raggiungere la figlia per portarle un regalo il suo la sua escalation è però increscendo quindi ciò che fa l'inizio distruggere per esempio un mini market gestito da un coreano che secondo lui applichi secondo bill applicha i prezzi troppo alti insomma l'escalation è lenta all'inizio invisibile non spicca attraverso tra altri atti di micro criminalità los angelina perciò un solo poliziotto dell'lapd si accorge che qualcosa non va è robert duval sergente predergast martin predergast anche lui è un perdente o quasi perché appunto un anziano sergente poco rispettato dai colleghi anche un invischiato in un matrimonio difficile perché la moglie è presa una forte depressione e lo tratta male tra l'altro è nell'ultimo giorno di lavoro perché il giorno seguente sarà in pensione questo è lo spunto narrativo poi credo che il film l'abbiate visto un po' tutti perché è appunto l'escalation di bill michael dargast attraverso una città arsa dall'estate da profonde divisioni sociali e la gente prendergast che ignorato sbeffeggiato dei colleghi inizia a capire che c'è una persona in città che potrà causare guai molto molto seri il film è molto molto bello secondo me molto riuscito invecchiato benissimo vediamo assistiamo al alla caduta ripeto falling down di bill che dovrà vedersela con negozianti disonesti passanti litigiosi con gang di strada ma soprattutto dovrà vedersela appunto quei suoi demoni perché la sua mente che ha perso ogni barriera e ha tributato al mondo quello che ritiene essere il suo ruolo ovvero quello di un posto orribile in cui tutti ce l'hanno con lui tra l'altro è un film anche kafkiano perché le cose che fanno impazzire bill cioè la sua mente già pregiudicata per i fatti che ho raccontato la perdita del lavoro il fallimento del matrimonio e il fatto di dover convivere una madre con una madre a cui non ha ancora confidato della perdita del lavoro però ciò che lo fa sbroccare sono piccole cose kafkiane appunto la burocrazia assurdi lavori stradali che bloccano un'intera città senza apparente motivo la micro criminalità che se la prende con l'uomo col cittadino comune con l'uomo comune il negoziante coreano che ritocche prezzi al rialzo ecco sono queste cose qua che proprio come il racconto di kafka fanno passare il limite a bill come dice lui nel film arriva a quel punto in cui è impossibile tornare indietro e può solo andare avanti sperando di fare il giro e di ritornare diciamo in orbita senza essere morto anche se questa poi vedremo che sarà una triste profezia ma il film dicevo ha anche una valenza politica forse involontaria ha avuto una produzione travagliata perché si è svolta durante il pestaggio di rodney king chi ha qualche anno come me ricorderà che il pestaggio di questo uomo di colore da parte della polizia finì sui nutriziari di tutto il mondo e soprattutto causò una rivolta da parte della popolazione afroamericana non solo di los angeles ma anche di altre città degli stati uniti fu la classica goccia che fece traboccare un vaso colmo di ingiustizia e precarietà razzismo e tanti altri bellissimi elementi quindi il film si innesta esattamente in questo periodo storico come se non bastasse bill michael douglas è un uomo bianco quarantenne e il tipico americano di quell'epoca che non riesce a tollerare il mondo che ha cambiato attorno a lui si sente alieno nella sua città si sente assediato dalle minoranze che reclamano il loro spazio e che a loro volta sono vessate e reagisce rabbiosamente non si sente più rappresentato dagli ideali americani anche perché appunto è stato anche licenziato e ripeto lui lavorava per la ministero della difesa quindi si credeva anche un ingranaggio importante del grande meccanismo del governo americano e quindi è un personaggio controverso e douglas è in questo ruolo al contempo un simbolo del disastro della classe media e un simbolo di quella classe media che secondo le minoranze vessava le loro comunità le minoranze stesse e se vogliamo se vogliamo azzardare la metafora quasi un joker antelitram un joker che è arrivato molti anni prima e in modo anche più riuscito secondo me un giorno di ordinaria follia è nettamente superiore al pur ottimo joker con phoenix joaquin phoenix la cosa bella è che tuttavia la il protagonista non non è antipatico non riesce a essere odioso o odiato in fondo il nostro bill non è un vero razzista ha dei pensieri razzisti ma non è cattiva tant'è che un certo punto se la prende anche con un negoziante neo nazista che che lo scambia per uno come lui e lui invece è disgustato da questa persona tant'è che reagisce e appunto lo combatte non è xenofobo non è sadico è fragile lo spettatore arriva a enfatizzare con lui e perfino a capire qualche volta quando se la prende appunto con quelle mostri burocratici tipo appunto i lavori stradali che sembrano fatti apposta per complicare la vita di una persona che già esce da una giornata di lavoro difficile da problemi familiari tutto quanto quindi è si riesce ad avere una certa comprensione per un personaggio che fondamentalmente hanno schizzato ma anche qui è uno schizzato più umano del joker se vogliamo tenere questo parallelismo il joker è quello che è ed è pesantemente fuori di anche lui con degli ottimi motivi però con bill si riesce a secondo me a a essere più affini a empatizzare maggiormente e addirittura sicuramente a provare pietà per lui e a fare anche un poco il tifo per lui così come si riesce a empatizzare con il sergente per endergast anche lui vessato dalla moglie dai colleghi sono due perdenti i protagonisti come già detto sono due perdenti quindi è facile è facile provare simpatia per loro e il confine tra il bene e il male anzi il bene e il male non esistono in questi due personaggi sono due personaggi schiacciati dalle aventi della vita e anche della società per questo proprio per il fattore società un giorno di ordinaria follia resta un film profondamente politico figlio degli anni 90 figlio di una città contraddittoria violenta anche razzista se vogliamo e quindi una città che ha generato persone come bill foster e anche come il sergente per dergast il film di schumacher se vogliamo è stato appunto anticipatorio non solo del joker ma di tante altre pellicole che avrebbero parlato di violenza metropolitana applicata però contesto appunto sociale in cui il cattivo lo svitato non è svitato perché sì ma è svitato per tutta una serie di conseguenze che vengono più o meno esaminate bene di pellicola in pellicola qui invece vengono rappresentate con un come dire con un tocco morbido adeguato alla trama il film è tutta trama il film è tutta azione e uno dei protagonisti è la città e michael daggers attraversando questa città con tutte le sue contraddizioni con tutti i suoi problemi con tutte le sue divisioni etniche sociali territoriali riesce a raccontarci il tessuto comunitario e il tessuto sociale ripeto questa parola senza doverci fare dei pipponi enormi quindi noi vediamo le brutture di questa città che è stato il simbolo forse più derelitto dell'america di quei tempi e le percepiamo senza dover star qui appunto a sentirci elaborate spiegazioni e magari da voci fuori campo film è molto bello facilmente reperibile probabilmente voi che mi ascoltate l'avete avete già visto tutti e se così non fosse il mio consiglio è assolutamente di recuperarlo e per me ripeto è un film che rappresenta l'estate di chi l'estate non la può vivere economicamente o nell'animo perché ha motivi di salute e magari non è sostenuto dal sistema sanitario a motivi di famiglia di divorzio ai figli violenti figli che sono in qualche gang di strada e queste sono storie che ci siamo portati anche nel 2023 non ci non si sono affermate certo negli anni 90 quindi è un film che rappresenta l'estate di tutti quelli che loro che coloro che l'estate non la possono vivere o che addirittura in questa stagione identificano qualcosa che peggiora i loro problemi perché l'estate spesso ti fa sentire anche molto solo e molto abbandonato va bene con questo tocco di allegria però parlandovi assolutamente di un film eccezionale io vi saluto e vi do appuntamento probabilmente a settimana prossima con una nuova puntata e presto anche col ritorno prestissimo del lost boy show quindi delle nostre chiacchierate lunghe a due in formato video e anche in formato podcast come sempre iscrivetevi al canale youtube se vi sentite su youtube seguitemi su spotify dove potete lasciarmi una recensione e vi aspetto anche sul mio profilo instagram alla prossima